Smarchiamo subito uno dei temi meno divertenti, passando velocemente a rassegna quelli che sono gli adempimenti burocratici per aprire un sito e-commerce. Partiamo dal presupposto che un sito e-commerce è a tutti gli effetti riconducibile a una classica attività commerciale, quindi la sua apertura richiede adempimenti simili a quelli di un negozio offline. Il primissimo passo è quello di inviare alla Camera di Commercio un documento chiamato Comunicazione Unica. Per inviarla dovrai soltanto innanzitutto essere iscritto al portale telemaco della Camera di Commercio, avere una firma digitale e infine avere una PEC. Questo documento, questa comunicazione, è dunque un unico canale che ti permette di fare tutte le richieste utili per aprire un e-commerce. Mi riferisco a l'iscrizione al registro delle imprese, l'attivazione della partita IVA, l'iscrizione all'INPS e all'INAIL e la comunicazione di inizio attività, cioè la cosiddetta SCIA. Prima di aprire il vostro e-commerce è importante che abbiate bene in mente che cosa volete vendere, quindi se si vuole percorrere la via del commercio elettronico diretto o indiretto. Per quanto riguarda il commercio elettronico diretto, si fa riferimento a tutte quelle transazioni che vengono esclusivamente online, ad esempio la vendita di software o file multimediali. Per quanto riguarda invece il commercio elettronico indiretto, in questo caso si fa riferimento alla vendita di beni materiali. È fondamentale chiarire questo aspetto perché in base a questa distinzione verrà applicata una disciplina leggermente diversa. Vi anticipo che su Flazio è possibile vendere sia prodotti materiali che prodotti digitali, impostando in automatico una diversa percentuale dell'IVA. Grazie per la visione! Grazie per la visione!